Compie dieci anni il Premio Lacquara, concorso letterario MUP editore organizzato a Borgo Valditaro dall'Istituto Manara in collaborazione con l'amministrazione comunale di Borgo Valditaro e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Parma. È stato pubblicato il bando del concorso dal 25 marzo al 15 maggio 2023 e sarà possibile partecipare inviando il proprio racconto. Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito premiolacquara.com. Il tema scelto per questa edizione è le mille e una libertà illustrato dal presidente di giuria, nonché ideatore del premio, il professor Massimo Beccarelli. Come la libertà che è negli occhi e nei sogni di chi è schiavo, nel coraggio di chi combatte e ha combattuto per conquistarla, nei gesti e negli atti di chi l'apprezza tutti i giorni, cogliendone l'ebrezza ma che non va mai data per scontata perché ha un bene troppo grande ed insostituibili. È collegata al premio l'antologia dei dieci racconti finalisti pubblicata da Muppa Editore e Marchio di Fondazione Monteparma che anche quest'anno sostiene l'iniziativa in un sodalizio all'insegna della promozione della cultura. L'iniziativa è inoltre sostenuta da Rotary Club Parma Est con un premio speciale che verrà consegnato nel giorno della finale. Dopo il successo dell'anno scorso, anche in questa edizione, il premio Laquara vanta la collaborazione con la scuola Holden, scuola di narrazione fondata a Torino nel 1994 dallo scrittore Alessandro Barricco. Scuola Holden farà parte della giuria del concorso e premierà il primo classificato o classificata del premio Laquara con la possibilità di seguire gratuitamente uno dei percorsi di scrittura organizzati dalla scuola. È confermato inoltre il premio speciale Berti Solaini in selezione a cura di Angelo e Michele Berti fra i cinque finalisti in gara alla finale di agosto. L'evento finale avrà luogo nei giorni 25, 26 e 27 agosto a Borgo Valditaro nella piazza Laquara che dà il nome al premio stesso. E oltre alla premazione prevede un festival letterario e libri in Borgo, piccola fiera dell'editoria indipendente che si terrà in piazza Manara nella giornata conclusiva di domenica 27 agosto con firma copie, letture e incontri con gli autori. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Tutte le informazioni e la modulistica per la partecipazione sono disponibili sul sito www.premiolacuara.com. Grazie a tutti.